benvenuti alla puntata numero 306 di punti a capo si torna a parlare di lavoro di temi forti che riguardano il lavoro e lo facciamo con grande piacere ospitando nella nostra trasmissione un amico un sindacalista molto conosciuto in città e non solo in città parlo di marco faranda da poco da pochi mesi segretario provinciale della fismic consal che andiamo ad accogliere l'angolo riservato la trasmissione sorriso c'è sempre caro marco benvenuto non ci diamo più la mano la mettiamo sul cuore come segno di affetto e anche di pandemia che non ci permette più di darci la mano benvenuto a marco faranda buonasera io ho qui una sorta di scaletta che dovrei seguire secondo quello che l'ospite gradisce ma quando si tratta di una persona che conosco così bene potrei andare in trasmissione fiume fino a domani benvenuto sono quattro anni che non ti fai vivo a punti a capo e non certo per colpa tua marco faranda una vita nel sindacato nel sindacato dei metano meccanici attualmente da maggio se non sbaglio nuovo segretario della fismic consal che ora presenteremo e ma lui è insomma diciamo è noto per essere stato per tanto tempo il segretario generale della wilm sindacato di metano meccanici della will possiamo citare la will insomma è stato casa tua per tanto tempo poi è incespicato su una pietra è caduto se fatto male ha riparato la ferita alla grande devo dire ed è tornato a fare sindacato a 360 gradi benvenuto a punti a capo grazie meglio di così non ti potevo presentare grazie salvo e buonasera a tutti i telespettatori sì in effetti hai fatto una giusta introduzione purtroppo nonostante per vent'anni ho svolto il mio lavoro con serietà con dignità e con rispetto tutte quelle che sono le regole e la legalità purtroppo è successo quello che insomma un po tutti conoscete però devo ringraziare il lavoro certosino che ha fatto la magistratura che in effetti ha riscontrato che su quella vicenda la verità poi è venuta a galla quindi devo dire che finalmente a luglio è sopravvenuta quindi il luogo il non luogo a procedere perché il magistrato dopo un attento lavoro ha riscontrato che in quell'occasione avevamo soltanto fatto il nostro lavoro volevamo far rispettare quelli che erano i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie perché erano in una situazione critica di un passaggio di un'azienda all'altra ma ahimè purtroppo questi pseudo imprenditori hanno causato le cose che comunque sono 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 avvenute io toglietti dall'imbarazzo anche perché ti fa onore insomma per quello che stai raccontato ce ne siamo occupati ampiamente qui a Tris sia quando sono avvenuti i fatti costretti dalla cronaca ma soprattutto un grande piacere quando ti sei liberato da questa situazione a dir poco incresciosa e non sempre si dà ragione alla magistratura non sempre si è soddisfatti del lavoro dei giudici nel tuo caso invece mi pare che sia venuto nel migliore dei modi io ho sempre avuto fiducia ma non da ora beh si ha fiducia quando si ha la coscienza politica certo da sempre il lavoro fatto dalla magistratura è sempre stato fatto un lavoro con coscienza e quindi fatto anche in maniera miti miticolosa quindi sono sono soddisfatto veramente e le ringrazio perché alla fine la verità è venuta fuori quindi questo è quello che oggi deve essere all'occhio all'occhio di tutti di tutti i cittadini tutti i lavoratori soprattutto e che mi hanno nuovamente accolto devo dire a braccia a braccia aperte ora siamo qui per parlare comunque di altro anche se era doveroso fare questa introduzione perché i problemi ce ne sono tanti tu li conosci li conosci da sindacalista incallito, navicato ce ne sono veramente tanti da qualche giorno fa c'è stato un vertice in prefettura sulla situazione ovviamente sempre più in crisi sempre più grave del polo industriale siracusano ricordiamoci il petrolchimico siracusano è uno dei più importanti in Europa non in Italia, in Europa, corre rischi veramente molto seri soprattutto per la vicenda Luke Coil di cui parleremo e voi come sindacato avete più volte chiesto un coordinamento nel prefetto della task force quale ruolo dovrebbe avere questa task force formata dal prefetto e con voi sindacalisti? noi questo grido di allarme lo abbiamo sempre fatto da almeno 20 anni cioè nel senso che noi abbiamo sempre sostenuto che all'interno del nostro polo industriale ci sia la necessità di avere un noi la chiamiamo in inglese task force no ma gruppo di lavoro certo che abbia delle caratteristiche fondamentali cioè nel senso che in questo gruppo di lavoro deve essere costruito da soggetti come l'ispettorato del lavoro che sono soggetti appunto che sanno veramente la loro materia riguardando appunto la materia del lavoro ma soprattutto lo SPRESAL e l'ASL che sono anche altri soggetti abilitati tecnicamente quindi più esperienti da questo punto di vista che possono, io dico possono, no potrebbero possono fare la differenza all'interno della zona industriale per tutte quelle vicende che riguardano la sicurezza la salute e gli incidenti che succedono all'interno del nostro polo industriale io faccio una premessa come dicevo all'inizio noi da anni abbiamo sempre detto che manca questo diciamo gruppo di lavoro e lo abbiamo sempre detto a possiamo chiamarlo anche un tavolo tecnico sì, tavolo tecnico è fatto da tecnici certo, certo, tavolo tecnico e noi abbiamo sempre coinvolto diciamo le associazioni di categoria imprenditoriali quindi in questo caso perché ha emesso le cose c'è solo Confindustria e quindi ci siamo sempre rivolti nel caso è il più importante è l'ordolo di controparte chiamiamolo così sì, sì, Confindustria dove aderiscono la stragrande maggioranza delle società e quindi abbiamo sempre utilizzato però devo dire che questo diciamo interlocuzione non è sempre diciamo avuto i suoi effetti e quindi dal mio modesto punto di vista da quello insomma che è data la mia esperienza e quindi anche attraverso la mia organizzazione che rappresento abbiamo pensato di alzare l'asticella e quindi rivolgerci al tavolo della prefettura perché per noi il tavolo della prefettura è il massimo che può essere all'interno della provincia del rappresentante dello Stato aveva parlato di Confindustria e le note qui sono un po' dolenti perché spesso voi sindacalisti denunciate il fatto che Confindustria al vostro bussare risponde non ci sono e proprio in settimana, oggi è sabato qualche giorno fa se non sbaglio martedì correggimi avete fatto con il tuo sindacato un sit-in davanti a Confindustria com'è andata? che risposte dà? corretto anche lì vedete come negli ultimi io dico vent'anni perché sono da vent'anni nel sindacato ma anche prima sono successe queste situazioni dove registriamo nei cambi di appalto quindi quando un'azienda perde l'appalto e c'è un'altra azienda che vince è consuetudine per gli imprenditori non per il sindacato di lasciare fuori da queste riassunzioni lasciare una fetta di lavoratori allora siccome a noi non è andato mai bene e non andrà mai bene quindi noi non saremo mai d'accordo a questa scelta io dico scellerata che viene fatta all'interno del polo industriale quindi noi saremo sempre a difesa dei lavoratori a difesa dei posti di lavoro e quindi noi abbiamo tentato come dicevi tu all'inizio di avere un interlocutore che è Confindustria perché questa società ha vinto l'appalto all'interno di Lucoil e quindi voi forza maggiore la Lucoil è associata a Confindustria e ha rimandato l'incontro a Confindustria devo dire ai me che nonostante i lavoratori liberamente scelgono di aterire in democrazia il sindacato che per loro è il sindacato che ritengono che li possa difendere in maniera dignitosa si sono rivolti al nostro sindacato e anche devo dire anche ad altri sindacati non confederali quindi in effetti il nostro sit-in l'abbiamo fatto la Fismic e anche la Cisal devo dire che a questo richiesta di incontro Confindustria ci ha negato la riunione asserendo delle motivazioni che noi riteniamo motivazioni abbastanza blande in effetti ci siamo riservati con il nostro legale di rispondere a Confindustria perché un sindacato come la Fismic Fismic Confusa naturalmente perché noi siamo all'interno della Confusa siamo il sindacato veramente rappresentativo a livello nazionale e quindi non ce lo può sconfessare Confindustria o fede meccanica anzi sfido in questa sede a smentire quello che sto dicendo perché fino ad oggi non c'è un criterio per misurare la rappresentatività quindi io credo che la rappresentatività venga misurata con i lavoratori che si associano liberamente a qualsiasi sindacato che esiste in tutta Italia ti interrompo un attimo Marco perché è chiaro che sempre per la par condicio in qualsiasi momento chiamati in causa i dirigenti di Confindustria o di fede meccanica chiamati in causa appunto dal segretario Marco Faranda possono replicare in qualsiasi momento loro desiderassero doveroso anche dircelo hai citato la Luccoil sicuramente l'azienda più importante che c'è il petrolchimico si accusano il Casio AIS recentissimo con il problema dello smaltimento del reflui il commissariamento di questi giorni ma che sta succedendo all'industria siracusana? ma vedete partendo dal problema si può chiamare problema Luccoil parte da molto lontano io vorrei sottolineare che questo punto questo problema non nasce con la guerra fra Ucraina e Russia e la Russia ma c'è un problema che va al di là e neanche con l'embargo al petrolio assolutamente no perché se qualcuno ha la memoria diciamo feria come quella mia si ricorderà che qualche anno fa la Luccoil ha iniziato non so per quale motivo un percorso di cassa integrazione che io dal nostro diciamo modesto sindacato e che noi naturalmente lasciamo questa parte ai chimici però io in qualche in qualche testata giornistica ho anche ribadito che non era non era consono in quel momento perché effettivamente non c'era nessun problema né di embargo non c'è nessun problema della guerra e quindi già a priori e quindi c'è un problema che già a monte la Luccoil aveva già in mente di abbandonare probabilmente questo territorio perché io dico questo perché da anni io dico il sindacato unitario devo dire qualsiasi esso sia ha sempre come dire rivendicato che questo grosso petrochimico facesse dei veri investimenti nella nostra provincia perché solo così si può come dire aumentare quello che sono anche non solo i posti di lavoro ma noi rendiamo facendo gli investimenti l'industria sempre più compatibile col territorio quindi ecocompatibile quindi l'innovazione e le tecnologie quindi devono permettere di trasformare questi questi impianti in impianti più innovativi che consentono quindi di andare avanti anche con e si può fare solo con gli investimenti certo certo e siccome questi investimenti devo dire che non sono stati fatti per io dico per la totalità di quelli che dovevano essere fatti hanno sempre utilizzato forme di investimento per poter come dire rattoppare detto così nel nostro geggo il tubo perché il tubo che che si che si buca quindi deve essere rattoppato comunque non un investimento vero e proprio di trasformazione di questi benedetti impianti gli investimenti Marco sono legati alla sicurezza sul lavoro le attrezzature obsolete anche la formazione perché non si può più sopportare perché sono dati che ci ha fornito il segretario faranda che da gennaio a oggi in soli dieci mesi in Italia sono morti 77 677 ripeto 677 operai lavoratori dipendenti delle zone industriali italiane 5 5 soltanto a Siracusa sono numeri che non si possono più sopportare mi hai dato anche un assist è anche colpa di dipendenti che non conoscono quello che devono fare alla perfezione quindi è la mancanza di corsi di formazione chiaro questo è stato anche oggetto come diciamo all'inizio di discussione in quel tavolo che abbiamo fatto in prefettura e che andremo a proseguire all'interno dell'ispettore del lavoro e poi per completare all'interno di Confindustria per stirare appunto un protocollo di intesa per quanto riguarda la sicurezza io devo sottolineare così come ho anche dichiarato ufficialmente in prefettura che la stragrande maggioranza delle aziende parlano di aziende metalmeccaniche e quindi posso parlare ampiamente di quello che insomma sto rappresentando la stragrande maggioranza delle aziende non fa formazione o meglio fa formazione soltanto sulla carta noi in quel tavolo che ci siamo confrontati è emerso ufficialmente che gran parte delle imprese non utilizza la formazione come dovrebbe questo è veramente un problema una piaga sociale grave perché i lavoratori che soprattutto in prima battuta che vengono assunti come prima volta all'interno di questo pedochimico non conoscono neanche minimamente che cosa sia questo quali sono i rischi che corrono marcando quel cancello della lucoglio in questo caso o versale o sasol o qualsiasi altro di tutto il polo o la sonata anche qualsiasi quindi questo deve essere un elemento fondamentale ma deve essere la committente stessa vedi sabbo perché quando noi entriamo entriamo a casa loro quindi deve essere la lucoglio in questo caso che deve pretendere ma non il cartaceo perché il cartaceo è semplice vengono vanno dei lavoratori gli chiedono il lavoratore mi firmami questo documento naturalmente il lavoratore si trova in una situazione o bere affogare perché chi va a lavorare ha bisogno di andare a lavorare quindi in quel caso non ha neanche la forza di ribellarsi abbiamo detto sempre che i lavoratori sono all'anello debole di questa catena e allora dobbiamo difenderli e chi meglio il sindacato per difendere i lavoratori allora noi ci siamo messi questo obiettivo abbiamo previstato questo obiettivo e non quello consentimi salvo e non gli slogan lasciamo di perdere gli slogan io sento zero infortuni non servono gli slogan salvo io provengo a vent'anni quando sono entrato al sindacato già vent'anni fa lo slogan era zero c'è qualche altro sindacato che vorrebbe scavalcare a sinistra e dice meno uno meno due cioè per estremizzare il concetto noi dobbiamo smetterla veramente con gli slogan noi dobbiamo andare avanti come un treno e devo dire anche che in questo protocollo mi auguro che Confindustria insieme ai sindacati con diciamo l'avallo della prefettura possiamo scrivere che quelle imprese che non rispettano come dire sia la formazione quindi la sicurezza in genere il protocollo di sicurezza devono essere espursi devono essere buttati fuori dagli appalti non possiamo più consentire questo c'è il lavoratore che esce da casa non si può permettere il lusto di non ritornare perché non stiamo andando in guerra il lavoratore va a lavorare e deve avere la garanzia di ritornare a casa dalle proprie famiglie questi numeri sono piccole guerre purtroppo quotidiane prima di dare la linea alla regia Marco proprio in un minuto di chi sono le colpe delle aziende delle committenti delle ditte dell'indotto di voi sindacati non è un'accusa no 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 oggi noi riscontriamo queste incidenze che comunque l'incidenza addirittura stiamo parlando che rispetto all'anno scorso abbiamo il 58% in più rispetto all'anno all'anno scorso questo è un dato fondamentale le colpe le colpe è chiaro che come dicevo all'inizio se domani tu vieni invitato a casa mia e scivoli a casa mia perché io sono stato negligente quindi la colpe è la mia quindi io dico le colpe sono sempre dei padroni di casa vero è che poi le diciamo le ditte appaltatrici ahimè ci sono società che vengono anche lì prendono gli appalti ma li prendono sempre sotto costo perché c'è una guerra dei poveri guerra fra i poveri e quindi c'è la rincorsa a fare a prendere l'appalto sempre col maggior ribasso e alla fine lo sconto che l'impresa fa lo toglie dagli onore di sicurezza questo è quello che deve cambiare in questo diciamo polo polo industriale gli appalti devono essere rivisti al discapito della sicurezza delle persone essere umani non ce lo dimettiamo persone ho l'ultima domanda per te preparati perché sarà terribile sto scherzando ma non mica tanto linea alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione come sempre che vedete in sovrimpressione con il numero della redazione l'indirizzo di posta elettronica e l'email personale ai quali potete rivolgervi in qualsiasi momento per formulare domande chiedere ulteriori informazioni al nostro ospite a Marco Faranda al segretario provinciale della FISMIC CONFSA FISMIC è la federazione italiana italiana industria collegata e quindi ti occupi di metalmeccanica da maggio sei il segretario provinciale è una bella soddisfazione perché è chiaro che non ci sono dubbi sul sindacalista ma questo significa che gli iscritti a questo sindacato hanno fiducia nella persona nell'uomo sì ti senti questa bella responsabilità sì come no come no in effetti come diciamo all'inizio devo dire che quattro anni fa dopo la vicenda che mi ha visto coinvolto ero rimasto un po' diciamo sconcertato e deluso dall'organizzazione che io ho rappresentato però come si dice oggi li devo hai deciso di fare punti a capo oggi no oggi oggi li devo li devo ringraziare perché grazie a loro che mi hanno come dire estromesso senza oggi senza alcun motivo e credo che comunque facendo sempre riferimento a quello che è la nostra bellissima costituzione l'articolo 27 recita che fino al terzo grado di giudizio all'ultimo grado di giudizio si è sempre comunque in innocenti ma questo probabilmente non tutti non tutti conoscono la costituzione probabilmente non è da tutti detto questo li devo ringraziare perché grazie a loro quindi ho avuto la possibilità di conoscere al di fuori dei sindacati diciamo confederali altri sindacati come questo come la FISM che è un sindacato di tutto rispetto un sindacato autonomo quindi si possono esprimere le idee che si vogliono sempre nei limiti naturalmente di quelli che sono i canoni della legalità e di quello che è lo statuto anche della nostra organizzazione però devo dire che è un'organizzazione libera dove si può esprimere come dicevo qualsiasi pensiero e che ci ha dato anche la possibilità di ritornare in prima linea e devo dire come dicevo all'inizio i lavoratori che mi conoscono quindi al di là del colore politico della bandiera o del credo religioso conoscono la persona e quindi si sono nuovamente rivolti alla mia persona e al sindacato che io rappresento per essere veramente rappresentati e tutelati al migliore dei modi anche perché il tuo curriculum sindacale è veramente notevole noi intanto ti auguriamo un buon lavoro perché ce n'è bisogno proprio sei segretario in un momento di fuoco e poi ti diamo il bentornato e appunti a cavo non ci farà aspettare più 4 anni sei del 2018 che non venivi e soprattutto bentornato sui campi di battaglia del sindacato grazie grazie a te di essere venuto grazie a Marco Faranda segretario provinciale della Fismic di essere venuto in trasmissione e grazie a voi telespettatori che ci avete seguito ai quali do appuntamento a sabato prossimo per un altro incontro con Punti a Capo arrivederci e a risentirci grazie a tutti